Quando gli organizzatori degli European Master Games dovevano individuare una location per la Vertical Run, la gara di corsa in salita dei Master Games, è venuto spontaneo pensare al Forte di Fenestrelle, la grande muraglia del Piemonte. Qui si corre una gara unica al mondo, la 4000 Scalini. Siamo giunti alla non edizione della 4000 Scalini, quest'anno farà parte degli European Master Games come gara di vertical nel mondo dell'atleticalità. Il 28 luglio ci sarà questa incredibile gara nel Forte di Fenestrelle, arriveranno atleti da tutta Europa e invitiamo tutti a venire a visitare la fortezza di Fenestrelle e vedere questa splendida gara sui 4000 Scalini. Questa gara lunga 2800 metri, con 650 metri di zisevello ha visto in questi anni atleti di tutto il mondo, dagli atleti etiopi ai quignani, atleti della Nazionale Italiana di Corsa Montagna. Tuttora detiene il record questo Gabriele Abate, atleta torinese 19-28 e a livello femminile la cunese Romina Cavallera 23-10. Quest'anno la fortuna che questa gara aperta tutta Europa, con questa gara di master, che noi già diciamo che è una gara comunque alla portata di tutti, perché comunque è solo 2800 metri. Questa gara si presenta con un percorso molto vario, una prima parte più corribile all'esterno, per poi entrare nella fortezza, dove troveremo una scalinata più ripida, all'inizio per poi trovare scalini più lunghi e meno alti verso la fine, con l'ultima parte in un prato all'aperto. Non presenta grandi difficoltà tecniche, perché è comunque una scalinata molto ripida, però è una corsa in salita, non tanto lunga, quindi adatta anche a tutti. Questo forte è un forte settecentesco, unico nel suo genere, è un'opera architettonica che non ha uguali in Europa, una serie di muri che scendono dalla montagna e arrivano fino a fondo valle. È un'opera che vale la pena visitare, è un grande contenitore culturale e turistico. Questa gara sicuramente ci aiuterà ancora di più a rendere questo forte e dare dignità internazionale a questa fortezza, che ospita tra altre cose 4000 gradini, una scala lunga, infinita, enorme, percorribile di corsa da atleti che sono eroici e che ci aiuteranno ancora una volta a far parlare di questa struttura che non va dimenticata, unica nel suo genere. Il territorio, le amministrazioni e gli enti superiori vogliono che il forte sia sempre di più un contenitore culturale, un laboratorio di buone pratiche, un laboratorio di sport. Grazie a questa manifestazione avremo l'onore e il privilegio di avverare questo sogno. Il sogno è che la fortezza, il gigante di pietra, si risvegli non solo nel corpo ma anche nello spirito e che sia conosciuta ai più affinché diventi meta di turisti e diventi un volano dell'economia locale.